Una serie di reperti archeologici di inestimabile valore risalenti alla prima epoca imperiale romana sono stati consegnati dai carabinieri della stazione di Castel Gandolfo insieme ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale al Museo Nazionale Romano alle terme di Diocleziano, nelle mani del direttore, professor Stéphane Vergé. Questi frammenti sono stati trovati dai militari nel 2021 a Castel Gandolfo in via dei pescatori durante lo sgombero di un'unità immobiliare. Con la collaborazione del reparto specializzato dei carabinieri tutela patrimonio culturale di Roma e della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Roma i reperti ritrovati furono catalogati e sequestrati. Si tratta nello specifico di un torso maschile marmoreo in cui si riconosce una copia dell'eros di Tespie con l'arco tratto da un originale in bronzo del grande scultore greco Lisippo. Due porzioni di un torso maschile panneggiato frammenti di lastra marmorea decorata porzioni di rivestimento marmoreo e di basamento marmoreo di statua e un puntale di anfora da trasporto. A seguito dell'iter giudiziario presso il Tribunale di Velletri si è giunti alla loro confisca per cui è stata successivamente disposta l'assegnazione dei resti al Museo Nazionale Romano per la presa in carico e la custodia.